Fuochino, fuochetto, ma non ancora fuoco. L'ultima scoperta del cacciatore di pianeti Kepler, appena annunciata sulla rivista Science, riguarda i pianeti più simili alla Terra scoperti finora. Simili le dimensioni, simile la stella attorno a cui orbitano, simile la distanza da quella stella. Ma la certezza che su quei pianeti ci sia quello che più ci interessa trovare, ovvero atmosfera e acqua allo stato liquido, ancora non c'è. Il sistema studiato da William Borucchi e i suoi colleghi ruota attorno alla stella Kepler 62, simile al nostro Sole. Attorno Kepler ha visto cinque pianeti con dimensioni che vanno da metà al doppio di quelle della Terra. I più interessanti sono i più esterni, designati come E ed F. Il primo è ai limiti della cosiddetta zona abitabile, dove la radiazione proveniente dalla stella basta a consentire la vita, ma è abbastanza bassa da consentire anche acqua allo stato liquido. L'altro, F, grande 1,41 volte la Terra, sta proprio in mezzo a quella zona e ha l'aria di essere roccioso, come il nostro pianeta. Potrebbe quindi avere fiumi, laghi, mari e aria respirabile per una forma di vita simile alla nostra. Oppure no. Kepler non è in grado di confermarlo, perché la stella è troppo lontana. Per poter dire fuoco, bisognerà aspettare di trovare pianeti con le stesse caratteristiche, ma un po' più vicini a noi. Grazie. Grazie a tutti.